Si parla tanto di Green Mobility e il futuro questo di Marco. Oggi avete presentato un testo, un libro che parla proprio della Green Mobility che vorreste esportare a pescare nell'area metropolitana. Sarà possibile in un tempo futuro, in un prossimo futuro? Sicuramente è fattibile anche perché ci sono realtà altrove che sono già futuro e quindi si tratta semplicemente di copiarle, non c'è un grosso lavoro da fare. Certo è che bisogna mettere insieme la giusta sinergia e partnership non solo a livello pubblico ma anche privato affinché anche su Pescara possiamo avere servizi sulla nuova mobilità che sostanzialmente metta al centro l'intermodalità, la mobilità intelligente, l'utilizzo di più mezzi e servizi che mettono anche un attenzionamento su quello che è la qualità della vita. Le prima diceva in conferenza stampa giustamente l'alternativa dell'auto è importante ma bisogna poter scegliere. Ci devono essere queste alternative? In Abruzzo, a Pescara siamo già pronti? L'alternativa ci permette di scegliere. Se vogliamo scendere dall'auto privata e quindi contribuire a quella mobilità sostenibile dobbiamo potenziare i servizi che ci permettono di fare altro. Oggi qui a Pescara abbiamo lanciato l'accordo con Trenitalia che ci permette di mettere a disposizione anche a un prezzo vantaggioso il noleggio bici per chi arriva col treno e un modo per creare dal basso le alternative e quindi offrire un servizio diverso. Partiamo da uno strumento che già è attivo che è quello dell'utilizzo del trasporto in treno gratuitamente della propria bici. A questo uniamo l'accordo siglato oggi con Legambiente che permette a chi arriva nella stazione di Pescara di poter fruire del noleggio o piuttosto che della riparazione del deposito con sconti dedicati per il proprio utilizzo. Avete già dei riscontri anche in altre città di questo nuovo modo di spostarsi? Il tema della mobilità sostenibile è un qualcosa che appartiene a tutte le grandi realtà perché ci si mette a disposizione della comunità di strumenti che sono necessari per vivere la città in maniera differente.